L'area funzionale prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ASL Toscana Nord-Ovest ha reso pubblico il report dei primi nove mesi dell'anno relativo agli infortuni sul lavoro nel territorio aziendale. Per quanto riguarda la nostra provincia, dal 1 gennaio al 30 settembre, gli infortuni mortali sono stati sei, quattro nella piana, uno in Valle del Serchio e uno in Versilia, sui 13 complessivi di competenza dell'ASL. Complessivamente, gli infortuni, compresi quelli in itinere e stradali, sono stati 9.402, di cui 828 con prognosi maggiore di 30-40 giorni. Sul fronte dei controlli, i cantieri ispezionati sono stati 889, di cui 171 non a norma, le aziende 3.551 con 2.950 sopralluoghi effettuati e 451 verbali emessi con 881 violazioni contestate 296 nel settore edile, 20 in agricoltura e 570 negli altri comparti, a cui sono seguiti 9 sequestri e 712.000 euro di sanzioni. Ma al di là dei freddi dati, il momento critico che sta attraversando la sicurezza sul lavoro è stato analizzato dalla direttrice del Dipartimento Prevenzione dell'ASL Toscana Nord-Ovest, Roberta Consigli, che ha parlato di un abbassamento di attenzione su cui bisogna intervenire, ma non solo in maniera repressiva. Quello che noi abbiamo come percezione in questo momento è che in generale ci sia un po' di abbassamento del livello di sicurezza e del livello di percezione del rischio. Per cui bisogna lavorare non solo sul numero dei controlli, perché la risposta più facile che viene di solito è quella di aumentare i controlli, ma gli infortuni sono successi in ambiti di lavoro, di ambiti produttivi dove noi con i controlli siamo presenti costantemente. Quindi bisogna cercare di agire su vari fronti per incrementare la sensibilità dei lavoratori, delle imprese, della collettività sul problema della sicurezza sul lavoro.